Ecco qua il gruppo Enduro XXX Danielino e anche Davidello Grande, buono Dan Occhiali 100% Numero 65 Loris Capirossi Ken Roxen Il mio amico Walter Honda 2,5 XXX Per non dire dell'altro mio amico Fabrizio Numero 356 KTM 4,5 Sospensioni Power Moto Di Fabrizio Accorda Wow Per non parlare di Il mio grande amico Bob KTM 500 Guardate Strumentazione Sembra un jet dell'aeronautica High tech Ventola accesa Tappo del radiatore Lettore di pressione Non ce l'ha nessuno solo lui Ecco Walter da Santa Barbara con furore Il didino di Frank Rondella Stivali si sono rotti ma con l'aiuto di Danielino detto di nove Suo figlio Suo figliocio E li ha aggiustati Iama Due e mezzo Di ex proprietario Candidato Spano Alessandro Alessandro Sufra di Devinuccio Senza freni Il KTM 400 E il Gessa Bellissimo Sponsor ufficiale Per non parlare poi del Pulese 3M300 Due tempi a carburatore Filippo Detto Gancio E numero 516 Sandrino Usquarna L'unico nel gruppo con Gli H Sul serbatoio E per finire E come ti fai Io E poi ci sono io Frank Rondella Questo è un grande gruppo Davidello con furore Enduro XXX La mia moto 300 TPI Numero senza numero 0 XXX Ciao